Paolo Pedini Boni, 41 anni, originario di Terre Roveresche, conosciutissimo in città durante la notte scorsa, si è accasciato sulla scalinata dell'ex chiesa di Sant'Agostino in via Vitruvio, probabilmente stroncato da un malore improvviso. Al momento del decesso era in bicicletta, l'ha appoggiata sugli scalini, si è seduto e lì purtroppo è rimasto. Sarà ora l'autopsia a stabilire le cause della sua improvvisia morte, sembra riconducibile comunque a cause naturali, non essendo stati trovati sul corpo dell'uomo da una prima ispezione cadaverica segni di collutazione o ferite, tranne alcune piccole abrasioni riconducibili probabilmente con l'urto sul selciato conseguente alla perdita di conoscenza. Paolo, eclettico ed ironico, affabile ed estroverso, conviveva con la sua compagna a Fano, che gestisce la nota Sala da Teluce, l'In Belverde, con la quale condivideva la passione per l'Oriente, la bevanda e l'arte, essendosi laureato in Scienze dei Beni Culturali all'Università di Urbino. Paolo, oltre che affiancare la sua compagna, prestava la sua opera presso il ristorante Pizzeria Doma, di fronte al faro di Fano, dove spesso guidava i clienti con consigli in ambito gastronomico sulle scelte da fare, guadagnandosi così col suo modo di fare cortese ed affabile la benevolenza della clientela e dove purtroppo la sua assenza si farà sentire. Al momento non si conosce l'ora esatta del decesso, mentre il corpo di Paolo è stato trovato attorno alle 5.30 di questa mattina da alcuni passanti che hanno immediatamente alertato il 118, che una volta sul posto però hanno constatato il decesso del quarantenne, ma, come Prassi prescrive, hanno attivato i carabinieri che sono arrivati con una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Fano che ha eseguito i primi accertamenti e perimetrato la zona in attesa che il corpo fosse prelevato dai necrofori e portato all'obitorio.